Dunque siamo qui in diretta da Roma, come vedete stiamo aspettando Carlo Pastore che purtroppo è in ritardo ma abbiamo qui un po' di gente qua, salve, mi scusi Dica Come sta? Bene, lei? Lei è qua per? Io sono Giulia di MTV Sì, è qua per Carlo Pastore? Ovviamente sì Che non arriva perché... Sfegatata, eh? Non è arrivata ancora? Eh no, che ci faccio io Ma la sua amica è qua Ciao mamma Abbiamo qui l'amica di Giulia, salve, come ti dame? Denise di MTV Ecco, siete tutti di MTV? Sì Riccardo, Samantha qui presente è di All Music Di ciao All Music, Samantha Ciao All Music Ma andiamo anche dall'altra parte, grazie signorina Ciao, ciao Voi andrei dall' MTV Day, vero? Sicuramente, fino a zero va a piedi Solo per Carlo Pastore Pellegrinaggio, pellegrinaggio Andiamo di qua, andiamo di qua Andiamo di qua dove ci sono le nostre amiche fan dei Dari Sì, votate gli ATRL Mio Dio Allora, Samantha Il momento è cruciale Lei adesso ci canterà dal vivo una canzone dei Dari Perché quel che vale è tutto quel che vale per me Quel che vale è quel che non si vale Pensate, pensate come sta finendo il mondo So belle cose So belle cose Ma abbiamo qui un altro fan dei Dari? No, assolutamente no Si può dire le tue generalità Ciao, sono Matteo Ho vent'anni, vengo da Roma e saluto tutti quelli che mi conoscono Bene, bravo, bravo, bravo Ovviamente Ma salutiamo anche l'altro pubblico che è là Grande pubblico E salutiamo anche Samantha Samantha Ciao Saluta Ma io questo microfono che ci devo fare Allora Te lo avevi Quanto è educata sto ragazzo Devo mettere nel cuore Giusto? Proprio nel cuore Nel cuore Ma guarda, intervistiamo anche un po' di gente No, no Tipo questo signore qua Che ne so Scusi signore No Dai, ti prego io quella canzone Dai, dai Samantha Intervista questi qua Dai, insegna Ma noi siamo dodici poveracci In realtà che siamo qui Aspettare che arrivi MTV MTV Che in realtà si chiama MTV Capito? Perché in realtà è empty Capito? Di essere della tua Scusate Adesso dopo questo campo dall'orto mi assume Scusi Lei di dov'è? Di qua Di qua Vogliamo ricordare Ah, di qua proprio Del gabbiotto Del gas Del gas Io dal gas Il gas Il gas Il gas E stai aspettando ovviamente i Dari I Dari sì, sì Madonna mia Gli Armandi Dove? Eh? Gli Armandi Madonna È delirio, è delirio qui, cara Samantha I Dari Samanta, tu tieni di porta Ma dove fa? Da che? Ogni lunedì Dal 22 di settembre Che mi chiami? Io ti chiamo in diretta A fine puntata? Sì, certo, ovviamente Chiameremo anche Però non posso dire parolacce Perché? Che ne so Non posso fare brutto Ovviamente Ma fatti vedere in faccia ogni tanto Perché no? Perché no Inquadro voi che sei le più belle Dopo questo mandalo Dopo di questa io ti consiglio una cosa Mandalo MTV così sanno chi non prendere Ovvero Ma salutiamo anche questa bellissima donna Salve Salve Adesso quando arriva Carlo Pastore Che facciamo? L'amore con Carlo Pastore Canta quella canzone Com'era quella canzone? Accendi, accendi your noise Non la canterò mai Canta la tua Aspetta Come facciamo? Pace, allegria Risate, serenità Quella È quella? È quella Ma perché tu non mi vuoi cantare mai in diretta? Perché no? Perché no? Sono stranata Dopo cambiano Cambiano Va bene Grazie Adesso quando arriverà Carlo Pastore Lo intervisteremo La A gabbiato della polizia municipale No in realtà è un vigile Carlo Pastore Voglio avvertirvi che la polizia Prego Scusate Possiamo notare Dobbiamo interrompere assolutamente la trasmissione Ci vediamo in galera Quando verrete a trovarmi Va bene? Grazie Samantha Saluto al pubblico Ciao grande pubblico No che basta